Eccola lì! Buono! Eccola lì! Fabiana Comin, un gradito ritorno direttamente dal Venezia, dalla Serie A, torni a Verona per un doppio ruolo, preparatore dei portieri e allenatore della squadra Primavera. Sì, è un ruolo inedito il ruolo del preparatore dei portieri, per quel che riguarda la Primavera è un lieto ritorno, in quanto l'avevo già allenata sempre il primo anno di Longega, nel Bardolino. Qui, come preparatore dei portieri, spero di far bene, di creare un buon gruppo portieri, di portare Stefani Ostrom a essere il mio portiere italiano e speriamo anche svedese. Come hai trovato questa svedese, insomma, prodata al sole dell'Italia? Una svedese un po' strana perché non è alta, non è bionda, però ha comunque delle buone qualità da portiere, una buona spinta, rapida, bisogna un po' lavorare sulle palle alte, però per il resto, secondo me, c'è da lavorare molto e si può migliorare.